Per il ciclo Agatha Christie Ah, eccola qua mia cara Non c'è niente come uno sparo per tenere il pubblico bispo e sveglio Colpito al capo, il corpo pieno di piombo, stava il crudele De Mecro No, ti sbaglio Uno di noi è un assassino Buonasera ispettore Credo che il nostro assassino tenterà ancora di uccidermi stasera Assassini o sul palcoscenico Giovedì alle 20.55